La nostra sovranità è costruire veramente quel grande... pensiamo alle piccole e medie imprese, pensiamo a tutto... non siamo più nel periodo in cui si può spegnere... La città, visto che abbiamo parlato di politica nel senso migliore... Questo partito nasce dopo una riflessione da parte di un gruppo di associazioni a livello nazionale, di imprenditori, di liberi cittadini e di amministratori locali che sono arrivati a rendersi conto che il ventennio politico che ci ha accompagnato fino ad oggi ha fallito. E quindi ci siamo messi insieme per ripartire con l'idea di democrazia cristiana storica nella storicità di un contenuto di com'era la democrazia cristiana. Noi non vogliamo fare né una marcorda né un remake, ma vogliamo ritirare fuori in difesa di quei valori cattolici popolari che la classe dirigente attuale moderata ha messo in stand by, in fase dormiente. E stiamo partendo dall'idea donsturziana di ripartire dalla base, creando un contenitore interclassista che rappresenti lo spaccato dell'Italia, del popolo italiano, che ad oggi nei contenitori lideristici personali non è rappresentato, ripartendo dalla base, dai territori e verso l'alto e non nella figura personale di un leader dall'alto verso il basso. Grazie 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 Grazie